Questo disegno avrà un'importanza enorme nella pittura, scriveva Malevich, riferendosi alla sua composizione, cioè una delle opere d'arte fondamentali del Novecento. Si chiama Quadrato Nero, è stato realizzato fra il 1914 e il 1915, la prima opera suprematista di Casimir Malevich. In Bielorussia, il Museo Vitebsk rende omaggio al genio ucraino con opere a lui ispirate. Grazie a Malevich ho scoperto la nozione di astrazione geometrica. In passato preferivo l'olandese Pietro Cornelis o Mondrian, ma Malevich mi ha collocato nel mio concetto creativo. Lo scultore Alexander Slipov ammette che anche la sua installazione Flambeurer è influenzata da Malevich. La scultura fa parte di una serie basata sugli elementi tipici di Casimir Malevich e i suoi colori originari, nero, bianco, rosso, ocra, ed oggetti come croci, cerchi, quadrati. L'intero volume nasce dalle forme d'arte di Malevich. La mostra The Black Square è aperta fino a fine gennaio.